Canto, danza, recitazione, una scuola che deve essere intesa come un unico luogo nel quale esprimere i propri talenti. E' stato questo l'obiettivo del progetto che ha visto collaborare fianco a fianco l'Istituto Beltrani di Trani assieme alla Scuola Media Baldassarre. Oltre 50 gli studenti che hanno dato vita allo spettacolo Una Notte a Scuola, una rappresentazione che è stata portata in scena presso l'Istituto Beltrani tra applausi, risate e consensi. Una scuola dove si devono sviluppare tutti i talenti e non solo l'italiano e la matematica, le discipline, ma anche tutta la vitalità e la fantasia, i talenti del ballo, della musica, della recitazione che fanno parte della crescita armonica della personalità dei nostri studenti. Siamo nel contesto di un PON pensato, progettato e realizzato in collaborazione con le due scuole. 14 ragazzi della Beltrani hanno partecipato ad un PON realizzato all'interno della Scuola Media Baldassarre, un PON di teatro. I ragazzi hanno dato prova che con questo PON hanno imparato a stare insieme, hanno imparato a rispettarsi e dando sfogo a tutti i loro talenti e alle loro creatività. Una notte a scuola è stato lo spettacolo conclusivo di un lungo percorso di crescita e condivisione. L'obiettivo è quello di saper stare bene insieme, l'obiettivo è quello dell'inclusione, non una mera parola ma tradotta in un percorso di crescita, in un'azione formativa che ha visto la sinergia tra due scuole. Uno spettacolo teatrale che ha visto il connubio di tanti linguaggi, verbale, corporeo, e che ha fatto in modo che 15 ragazzi della scuola primaria e oltre 40 ragazzi della scuola secondaria dessero vita ad uno spettacolo dove il dono dello stare insieme e dell'imparare a vivere insieme è stato il perno. Questo grazie alle risorse europee che sono una grandissima opportunità che si è concretizzata appunto in un percorso di crescita, che ha fatto della sinergia tra le scuole e con il territorio il premio e l'elemento fondante.